... del territorio di Montepagano, gli usi di costumi popolari, foto, libri, documenti, cultura, come mia sorella sarà esaustiva, questo funziona, Luana ci ha suonato, stasera suonerà quello, oggi pomeriggio questo meraviglio. Sì, quelle a soffietto di una volta. ... 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 però molto spesso mi chiamano e dice ti ho chiesto di vedere la madre e le altre due e le devo vedere eh sì le devo vedere qualche volta non mi faccio vedere e allora non mi è compresa veramente se no è tutta dice la storia anche della parte di Montapagano alcune le perti ed è nata la Banda Montapagano nel 1850-1830 ma non c'è più adesso c'è sono capito che c'è e non c'è cioè è una banda che doveva apprendi il nome ho capito se stamattina c'era ci poteva accogliere perché sono i giovani sono tutti diplomati, laureati al conservatorio ho capito e quindi hanno tutti da fare la banda è andata a Rai 2 o la mattina mi sembri chi era e ci sta due foto quella lì e quella sulla destra in alto lo è il sassofono sta cercando qualche attrezzo sì, non c'è non c'è, c'è di bocce ahiaiai quelle che sono le bocce? non lo vedo queste queste sono sassi sassi? ma sono le bocce adesso non so se quindi non lo sa per la mesa quelle palle dei cannoni no? queste sono i cosi di legge quello usavano per rammentare le calze quello usavano per rammentare le calze no ci mette un uomo le calze è una parte ferri da stile ma no, le macchine erano macchie io dovevo fuori da fare una ma questa è la regola wow guarda 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 mamma mia guarda 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 ma non si ha guarda ci sono pure i cittoli anche io ho il cittolo Viste? Vedi che è vero? Non hai mai visto. No, non hai mai visto. Carta di mia, discaricano sotto. Non mi ricordo. Mamma mia quanta roba! Io ce l'ho ancora quella mia. Ah, vedi ci faccio la foto. Io ce l'ho tenata un po' più piccola, sì. La cervella. C'è una pazienza. Complimenti Anna Maria, guarda. Un capolavoro. E le ha preso la scusa di una ricca. Un capolavoro. Lì sta il prete, là sotto. Ah, c'è il prete? Sì, è il prete quello, penso. Il prete? Sì, sono 40 anni che ripetiamo. Là c'è il prete che scalda il letto. Il prete, guarda. Il prete, guarda. È il prete. È il prete. Il prete. Il prete. È il prete. Il prete. Il prete. È il prete. Iniziamo iniziamo.